Abbiamo iniziato con oggi il corso per operatori della pesca professionale acquacoltore, corso che darà una qualifica al termine delle 600 ore di corso fra teoria e stage. Siamo contenti perché abbiamo composto un'aula veramente attiva e proattiva. Vediamo che i ragazzi sono interessati, sono di diversa provenienza anche dal punto di vista delle esperienze lavorative, chi ce l'ha e chi non ce l'ha ancora, con quanto molto giovani, alcuni, e vedremo più avanti insomma come andrà avanti questo corso e comunque rimanete sempre in contatto con noi perché come sapete la scuola della pesca è una scuola a 360 gradi per Coldiretti Liguria e quindi procederemo poi ad attivare anche altri corsi su tutta la filiera ittica che riguarda il settore della pesca professionale e dell'acquacoltura. Nei prossimi mesi racconteremo la storia di qualcuno di questi ragazzi che sicuramente può essere importante farci da testimonial per i corsi anche che vorremmo attivare in futuro. Quindi potrete ascoltare dalla loro viva voce la loro esperienza e cosa pensano del corso che stanno seguendo.